GAMINGUEFA.COM Seconda classificata, secondo me mi auguro l'Italia, quindi se non voglio essere fiducioso e dico Italia ragazzi, seconda classificata tra Turchia e Svizzera, perché quarta vi dico già che ci metterò il Galles, tra Turchia e Svizzera io vi dico che come seconda ci passa la Turchia, come terza la Svizzera e come quarta il Galles, quindi Gironeapa per me passano Italia e Svizzera, poi le migliori terze le andremo a vedere dopo. Gruppo B, Russia, Belgio, Danimarca e Finlandia, Belgio come prima, Danimarca come seconda, Finlandia terza e Russia quarta, non so perché ma oggi ho messo un po' di rose tutto, la Finlandia a me non mi dispiace, quindi metto la Finlandia come terza, quarta Russia, seconda Danimarca, primo il Belgio ovviamente. Gruppo C, Austria, Macedonia del Nord, Ucraina e Olanda. Allora come prima classificata metto l'Olanda, seconda classificata tra Ucraina e Austria, l'Ucraina è una bella squadretta, mi piace molto l'Ucraina potrebbe fare anche lo sgambetto come seconda classificata. Però io così, a pelle, a coso dico Ucraina, terza Austria, quarta vi dico Macedonia del Nord, che comunque farà il suo Europeo ma non credo che passerà i gironi. Gruppo D, Scozia, abbiamo poi l'Irlanda del, vabbè questa nazionale qui che adesso mi viene in mente chi sia, la Croazia e la Repubblica Ceca. Prima metto la Cro... no penso che cosa è l'Inghilterra sarà questa, no? Questa sì 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 è l'Inghilterra, è l'Inghilterra ragazzi, questo qua è l'Inghilterra, sopra ci si è scritto Ita, comunque questa qua è l'Inghilterra. Prima l'Inghilterra, seconda Croazia, terza Repubblica Scozia, terza Scozia, la Scozia non è male come scudetta ragazzi, la Scozia c'è di buoni giocatori eh, quarta Repubblica Ceca che ho visto anche io dalle amiche voglie con l'Italia e non mi ha convinto per niente. Girone, Polonia, Spagna, Svezia e Slovacchia. Allora, allora prima vi dico la Spagna, se questa è Slovacchia non è scarsa, però tra Svezia e Polonia penso che sia quella inferiore. Vi dico, seconda tra Svezia e Polonia, considerate che oggi la Svezia ha avuto dei positivi, Svanberg e Kuluseski. Vi dico, seconda Polonia, terza Svezia e quarta Slovacchia. Gruppo F, Portogallo, Francia, Germania e Ungheria. Allora, la Francia passa come prima. Portogallo come secondo, terza Germania, quarta Ungheria. Segnatevelo questo gruppo eh. Ricapitolando, passano Italia e Turchia come nel giro ne ha come prima e seconda. Belgio e Danimarca. Olanda e Ucraina. Inghilterra, Croazia. Spagna, Polonia e Francia, Portogallo. Le terze sono Scozia, Svezia, Germania, Austria, Finlandia e Svizzera. Ora andremo a scegliere le tre migliori terze, perché passano le tre migliori terze. La prima è la Germania. Germania, Svizzera e Svezia. Le quattro migliori terze, non è tre, le quattro migliori terze. Allora vi dico, Austria. Lascio fuori Scozia e Finlandia. Le quattro migliori terze sono queste. Andiamo, procediamo con gli ottavi di finale. Voilà, perfetto. Eccoci qua con gli ottavi di finale. Il primo, ottavo. Belgio, Svezia. Chi passa per me? Il Belgio. Italia, Ucraina. Mi auguro l'Italia. Francia, Svizzera. Vi dico Francia. Croazia, Polonia. Vi dico Croazia. Spagna, Austria. Vi dico Spagna. Inghilterra, Portogallo. Inghilterra, Portogallo. Grande partita, difficilissima secondo me per entrambe le squadre. Tra Inghilterra e Portogallo. L'Inghilterra mi piace tantissimo. Meno il Portogallo, quindi vi dico Inghilterra. Prima Turchia e Danimarca. Vi dico Turchia. E tra Olanda e Germania. Vi dico che passa l'Olanda. Metto la sorpresa l'Olanda che manda fuori la Germania. Belgio, Italia. Facciamola dopo questa. Francia, Croazia. Francia. Spagna, Inghilterra. Tra Spagna e Inghilterra. Io vi dico che passa l'Inghilterra. Tra Turchia e Olanda. Vi dico Olanda. E manca quella tra Belgio e Italia che andrebbe a sfidare. Nella mia simulazione, ragazzi, andrebbe a sfidare la Francia. Tra Belgio e Italia vi dico che passa. Secondo me ci passa, purtroppo, a malincuore, il Belgio. Quindi tra Belgio e Francia. Francia e tra Inghilterra e Francia. Vi dico Inghilterra. E per me vince l'Europeo 2020 che si gioca nel 2021. Lo vince l'Inghilterra che batterà la Francia in finale, ragazzi. Fatemi sapere la vostra. Questo è stato con un commento. Secondo me chi vincerà l'Europeo? Pollicione sul video. Iscrivetevi al canale, ragazzi. Noi ci amichiamo. Un prossimo video. Bella, ragazzi. Ciao.